Assessore Maurizio Verna, questa settimana ci saranno modifiche importanti sulla viabilità del trasporto pubblico locale, come mai? Sì, a causa di lavori importanti della rete del gas che stanno facendo un bypass per collegare le due linee che servono questa città, che ricordiamo alcuni anni fa una parte rimase sprovvista della fornitura del gas perché una e due linee andò in crisi, e quindi questo bypass permetterà di dare a tutto il territorio comunale, anche in caso di problematiche, il servizio richiesto. Quindi si sta lavorando davanti alla stazione ferroviaria, quindi da via Pannella alla ponte San Ferdinando, c'è la chiusura in unica direzione del traffico, questo comporta una modifica al trasporto pubblico locale, in particolare le linee 1 e 1 barrato nel tornare verso il centro gireranno prima, quindi non passeranno su stazione ferroviaria, ma salendo da via dei Crispi gireranno su via Roma, via Po, riscenderanno in via Fonte Regina, dove sarà la fermata per chi utilizza stazione ferroviaria, quindi poi tornare in centro da ponte San Ferdinando. Mentre invece sulla linea 7, la linea universitaria, che scende da via Pannella e ci scenderà ancora per qualche giorno, perché stiamo definendo la nuova fermata al capolineo, quindi oggi, questa settimana scendendo da via Pannella, praticamente non risairà più in direzione ovest su via dei Crispi, ma in direzione est, scenderà su via dei Crispi, via Roma e tornerà su via Po. Quindi se questa modifica chiediamo a tutti i cittadini, ai fruitori del servizio, un po' di pazienza, si sta lavorando per questioni di sicurezza, nel giro di qualche giorno la situazione tornerà normale. Quindi il provvedimento sarà in vigore da domani fino a quando? Prende da subito fino almeno a fine settimana, fino a quando non finiranno i lavori, i lavori dovrebbero finire verdi, speriamo che finiscono anche prima.